Sì, oggi è stata indetta una giornata di sciopero regionale da parte dei Vigili del Fuoco aderente l'USB. Le problematiche ormai sono ben note, da anni rivendichiamo le condizioni estreme a cui sono costretti i Vigili del Fuoco, non ultimo i pagamenti delle spettanze che dovrebbero percepire i Vigili del Fuoco, e invece mensilmente vediamo che le problematiche per quanto riguarda questi emolumenti vengono traslate da mese in mese. Siamo arrivati quasi ad un anno per l'economia del G7, i buoni pasto sono passati 5 mesi, forse cominceranno ad essere distribuiti non tutti e 5 mesi ma qualche mesetto a breve, le boschive del 2017 ancora devono essere pagate. Noi queste scelleratezze non le possiamo più ammettere, vogliamo le nostre economie e vogliamo sicurezza, anche se dovessero essere attuate le convenzioni boschive che quest'anno potrebbero essere già in anticipo effettuate queste squadre aggiuntive per poter garantire sicurezza alla popolazione, noi ci troviamo in difficoltà perché non abbiamo né gli uomini né i mezzi, noi siamo costretti a sdoppiarci giornalmente per poter aggiungere altro personale a queste squadre, le economie che sono state stanziate per queste squadre aggiuntive diciamo che sono irrisorie per queste 5 squadre, dovrebbero prendere personale di turno che esiste già per poter comporre queste squadre, noi questo non lo possiamo ammettere, ci accontentiamo che vengono effettuate meno giorni di boschive, ma che il personale sia personale fresco e che sia personale remunerato per questo servizio. Noi continueremo a rivendicare quanto detto fino a quando non riceveremo risposte, e la cosa grave è che qualche sindacato invece di tutelare i lavoratori si è permesso di boicottare anche lo sciopero di oggi, questa è una cosa che noi sinceramente ci lasciamo.